Bella ragazzi, buone di questo, io sono Expiron e oggi siamo qui su Ozu, un gioco che mi sta molto a cuore perché sono giocato abbastanza e sono a livello 35 praticamente E questo gioco, vi ricordate quando prima che sono arrivato, non l'ho fatto per un mese, è stato per colpa di questo gioco che mi sono inflippato troppo Oggi voglio far vedere un gioco ritmico, non come Geometry Dash, comunque poi vi farò vedere Ci sono varie modalità, ma la modalità che vi farò vedere oggi è Catch the Beat, che è una modalità a parte, c'è anche Ozu che è la più importante Che però oggi non vi farò vedere, ma la modalità che io, che a me piace di più e che gioco di più io è appunto questa qua Che è Catch the Beat, ora ve la farò vedere e ve la farò vedere in una missione, missione sì certo, in una canzone che mi sta molto a cuore Dato che sono da tutti i poteri primi 80 mondiale, classica mondiale E se vedete che in questi video di Ozu non parlo molto è perché sono abbastanza concentrato Ecco l'appunto ragazzi, stavo perdendo la combo perché ha fatto il lag Se vedete chiamate il lag, non lo so, perché Ozu quando mi ha visto il ragazzo Lagga Vai, vai, più Quanto fa il combo? Non me lo ricordo 434 Signori è difficile, è difficile, credetevi Alcune, ora lo so, ce l'ho di normale Ma tipo, quando fa il difficile ovviamente è difficile Va molto più veloce, magari ve lo farò vedere in una canzone Una traccia in difficile Se vi piace questo video me ne porterò altri Adesso 570.000 quasi Pessato Ecco, sono smart che interrompo il video Vai, ottima Vai, vai, vai Oh mio Dio ragazzi, questa qua è la parte Perché qui se ne manchi hai perfetto una grande combo Hai perfetto una grande combo E' a gratis, è un free to play quindi non è pubblicità ragazzi E' un free to play quindi se volete potete anche scaricarlo Magari giochiamo qualche pagina insieme Tanto che c'è anche un free to player Magari li registrerà insieme a Exxon su una partitina Anche a Sui Smart Che dovrebbe rincominciare a fare il video Vi ho già detto in un po' di video Ma dovrebbe venire assolutamente rincominciare a fare il video E vedete c'è Lili a confermare Magari se stavo un po' zitto E faccio un po' di video Che è carina Che è carina Ah, non si può fare Perfetto Vai, ottima Poi ho usato la canzone La traccia La traccia La traccia Il mistero Il mistero Io faccio vedere una che tipo Dira 5 minuti E' veramente qualcosa di disastroso Ma è una bella canzone Una bella canzone E provate Ma ho mancato all'ultimo Non ci credo Ho mancato la combo finale Volevo a 20.000 punti con la combo finale Cioè guardate Guardate Non ci credo che l'ho mancato all'ultimo Vabbè signori Ciao 99,69 da più Sono quasi perfetto Ve ne faccio vedere Ve ne faccio vedere questa Che è l'ultima di oggi Se non ne faccio tre Probabilmente ne faccio tre a episodio Non è una serie Ma Quindi mi piace Perché è un po' più È un po' più grande Il quadratino Ma è difficile Perché Guardate A lato A sinistra Quanta combo devi fare E quanto Sono arrivato L'ultima volta 8 milioni Qualcosa E vabbè Trato quando gioco a questi giochi Non riesco a guardarmi intorno A parlare Sono bloccato Finalmente Concentrazione Concentrazione Bam Sono già No Non me lo aspettavo Che era così veloce Cioè È abbastanza veloce E nel prossimo episodio Vi farò vedere la modalità Ozu Quindi io sono Un'imparcita 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 Faccio la tavoletta grafica Che mi aiuta La tavoletta grafica In questo gioco Veramente La cosa che Sigo messo Non è La killer app Di questo gioco La tavoletta grafica Perché basta Commentare In Ehi Basta commentare I miei commenti Loll E poi di parlare Incredibile Bomb 315 Dai Siamo Praticamente A un quarto Un terzo Della canzone Estremamente Non sto sbagliando Come faccio Ogni volta Tanto sbaglierò Tipo l'ultimo Perché sono Un genio Maledito Dai 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 Non mi distrarre Sono ancora 100% Di a cura Incredibile Non mi devo distrarre Perché Non mi devo distrarre Perché Io non credo Adam Cazzo Scoprirà Questi misteri Non mi sto abituando Alla grandezza Ma mi sembrano più piccole Le cose Di più Dell'inizio Ah Così Oh No 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 Ho perso la combo Ho perso la combo No No Quello che state vedendo Non sono Il vero Io Il vero Il vero Il vero Veramente Io da solo Faccio cose Veramente I gritti E non è E Fa un'eccezione Che ho sbagliato E non va comunque Il vero Io quando farò Maledito Questa cosa Sarà veramente Una vittoria Per me Ma Esiste che fa No Ho sbagliato il nuovo Perché guardo Guardo il ranking Vabbè ragazzi Si continua Si continua È abbastanza difficile Poi guarda Per via concentrazione Penso Sto con il 900 Per via concentrazione Matti non ridere Chi sente BASTA A SBAGLIARE Wow Sto gli ammazzanditi Non mi è Spesso In cui Sto l'avecima No basta sbagliare Madonna Cioè Più è un tempo di fail Quest'episodio Veramente Insomma, me la prendo un po' Me la prendo un po' per me stesso Perché Mi vuoi succedere come un gioco Per chi Incominciasse a giocare a Nozu e non sa come si fa Lo sprint come me all'inizio Si fa con lo shift Boom 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 Ho fatto Non stava sorridendo all'inizio quella tipa Vabbè, comunque io È vero, lo guarda È vero, mio Dio Quindi era un video Facciamo un'ultima Cioè un'ultima, io direi di fare Questa Questa qua Se prima ho sbagliato Stai zitto Cioè Io ragazzi, questa la voglio Me la fatta scoprire Exorus Andatevi a vederla sul canale di Exorus Perché l'ha fatta anche Exorus È veramente Stupefacente E si Andate a vedere sul canale di Exorus Mi sembra che l'abbia fatta E poi l'ha fatto Io non mi fa E niente Aveva freddato Mi sembra Mi sembra fosse questa Exorus Non te la prende Mi sembra sbagliato A parlare Mi sta facendo 100 Ecco Io non devo parlare Cioè Non è per i dislessici Questa cosa Per molto Uh 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 Avevo fatto una cosa sbagliata Mi ero posta senza Passare in destra Ho superato il mio record Com'è possibile Wow Dai È una performance Non male Non male Devo stare zitto E non devo guardare il ranking Sto guardando il ranking Entrare nella top 15 Sarà cosa di dire E lo sappiamo Benissimo Ma ci proverò Ci proverò Ben Ben Per vedere qualcuno superato La Nel ranking Si sbagliano troppo Per entrare Nel ranking Certo La cura Sì Certo Vedete ragazzi Come mi si è abbassata la voce Veramente Io Mi batto proprio Tutto Cioè Veramente Tensione Tensione No La tensione Pergiamo un sacco Eh ma Ci ho ripreso da poco A fare A giocare a Dozu E per quello Prima Questa qua È la mia prima partita Sì Insomma Prima partita dopo Tre mesi tutti Capitemi Capitemi Dove già fare 99% Non mi sembra Cosa da poco Ma io dico Che possiamo arrivare Anche cinquantesimi Guarda che ce la facciamo A entrare nella top 50 Ce la facciamo Ai no No Sono un babbone Sono un babbone No Ce l'ha arrivato Ragazzi no Nel prossimo episodio La rifacciamo Questa Sono un babbone Come si fa A sbagliare All'ultimo Ragazzi Dopo Questo sbaglio Se vi è piaciuto Vi mettete un piaccio Mettete un piaccio A Facebook E in descrizione Spero Come potete Vi sape a tutto Iscrivetevi A me Vi siete Escritti Chi è quello A 666 Per oggi Tutto bello Per oggi Per oggi